Prima di Titanic e di Avatar, James Cameron ha firmato un altro grandissimo successo cinematografico, diventato poi una saga amatissima dai fan. Parliamo di Terminator, pellicola del 1984 con Arnold Schwarzenegger e primo capitolo dei cinque finora realizzati sul micidiale Cyborg. L'uscita dell'ultimo è prevista per il 2015. Difficile credere che dall'uscita della pellicola siano passati 30 anni, eppure basta fare i conti per scoprire quanto sia vintage eppure attualissimo il film di fantascienza. Per ricordare la pellicola per bene vi regaliamo 5 curiosità. Molti attori furono considerati per il ruolo di Terminator prima di Schwarzenegger, ma due in particolare col senno di poi ci sembrano abbastanza improbabili. Stiamo parlando di Mel Gibson, che rifiutò la parte, e di O.J. Simpson, che ai produttori sembrò troppo carino per essere convincente nei panni di un implacabile cyborg. Nella classifica redatta dall'American Film Institute sui 100 eroi e cattivi del mondo del cinema, Terminator è l'unico personaggio a comparire sia nella categoria degli eroi che in quella degli anti-eroi. Alcuni attori appaiono sia in una lista che nell'altra, ma nei panni di personaggi differenti. I'll be back, tornerò, è la battuta del film probabilmente più ripetuta in assoluto. Non tutti però sanno che l'abbattuta originale scritta da Cameron fosse I'll come back, successivamente modificata. All'epoca inoltre l'inglese di Arnold non era dei migliori, e l'attore propose un'ulteriore modifica, I will be back, per renderla più formale. Cameron però rimase della sua idea. Sebbene Cameron volesse iniziare subito a girare dopo aver assunto Schwarzenegger, l'attore era all'epoca impegnato sul set di Conan, il distruttore, per cui le riprese vennero posticipate di nove mesi. Il regista si dedicò quindi ad una sceneggiatura, quella di Alien, scontro finale. Si mormora infine che sul set Schwarzenegger evitasse in tutti i modi Linda Hamilton e Michael Biehn per prepararsi al ruolo del cyborg, che come risaputo non è proprio bravo ad intessere relazioni sociali.